Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove verso Roma ci sono 3 km di coda per un incidente al km 318 tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla FIPILI rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze, uscita chiusa a Livorno Aurelia provenendo da Livorno. Si ricorda che la statale 330 è chiusa in località Albiano Magra nel comune di Aulla in provincia di Massa Carrara a causa del crollo del ponte sul fiume Magra. Il traffico è deviato con indicazioni segnalate in loco. Infine sul raccordo Siena-Bettolle per lavori fino al 26 settembre sarà chiuso lo svincolo di Sinalunga in entrata e in uscita in direzione Siena. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!